Io ho piacere di partire citando Michele Barbie perché Michele Barbie è primo che capisce una questione importante e quando nel 1891 stava affiancando Isidore De Lungo in una delle varie ristampe dei Promessi Sposi si era accorto che gli esemplari dei Promessi Sposi che loro stavano utilizzando per impaginare quello in particolare aveva alcune lezioni che non corrispondevano a lezioni di altri esemplari. Allora in quell'occasione Barbie chiese di avere 12 esemplari, li controllò e vide che c'erano differenze tra foglio e foglio quindi c'erano delle divergenze che bisognava ricostruire. Barbie non collaborava se non in via ufficiosa come in amicizia con Isidore De Lungo. Isidore De Lungo non compare a sua volta. Questo testo che ho riprodotto è quello che nel 1934, quindi parliamo di tanti anni dopo, Barbie ha pubblicato negli annali della scuola normale di Pisa e diceva che la cosa fu avvertita nella breve premessa a quella seconda edizione provata con esempi e spiegata con la sola ipotesi verosimile di correzioni introdotte durante la tiratura di fogli. Alla normale la coppia di questa edizione del 91, curata anche lì nascostamente da Isidore De Lungo per la casa editrice successori Lemonier, ha questa dedica. Quindi Isidore De Lungo dona una copia ai Promessi Sposi a Barbie e sul verso del frontespizio annota a mano al suo caro Michele Barbie ricordo del letterato fiorentino di pagina 4 Isidore De Lungo. Questa è la nota firmata agli editori, ripeto non compare nemmeno nell'altro e si conclude questa nota firmata agli editori nello stesso modo lasciando a spiegare o indovinare come la cosa andasse il più probabile è che si tratta di correzioni introdotte durante la tiratura dei fogli, un calco esatto. Gli editori dicono abbiamo accertato, controllato una dozzina di esemplari Barbie e poi Ghisalberti che entrerà ad aiutarlo, adesso lo vediamo arriveranno a controllarli, inizialmente 80 poi arrivano a 108. Lui, Barbie, a 40 anni da quell'edizione, quella ristampa aveva la preoccupazione relativa al fatto che la questione non fosse stata come dire, riconosciuta come una questione essenziale e quindi ribadiva il concetto dicendo è una questione che si strascica ad oltre 40 anni a nessuno è ancora riuscito a metterla nei suoi veri termini eccetera eccetera questa volta lui pensava di riuscirci tanto più che grazie a una gentile allieva di Nicola Zingarelli la signorina Giuliana Patellani e all'amico Fausto Ghisalberti ho potuto avere quei raguagli dalle carte manzoniane che più erano necessarie Barbie non veniva a Brera dove le carte sono non andava insomma a Brera e Ghisalberti che era un professore di liceo di Lodi era stato distaccato invece su richiesta di Barbie per lavorare con la Patellani della Patellani ci sono nel fondo Barbie 21 lettere ma di Ghisalberti ce ne sono 256 che vanno praticamente dal 31 al 41 al giorno quasi della morte perché la loro intenzione era quella di realizzare un'edizione critica commentata e questa cosa non avvenne perché l'unica edizione che si realizzò insomma con l'unione delle due forze fu quella del 1942 Barbie era mancato nel settembre del 41 però l'edizione, il primo volume delle opere pubblicate da Casa del Manzoni e Sansoni di Firenze recca la doppia firma ecco, è il testo però, non è altro tutto quel lavoro di commento che speravano di fare non c'è l'ho fatto però qui siamo troppo in avanti l'ho fatto però a Ghisalberti Ghisalberti a quel punto si è sentito impegnato con la memoria di Barbie ha lavorato indefessamente in una maniera veramente commovente ancora adesso al pensiero perché lui poi ha trascritto tutte le opere di Manzoni non sui Promessi Sposi e ha fatto una lettura accuratissima della coppia di lavoro di Manzoni cioè la ventisettana su cui ha lavorato delle poche bozze e supestiti ma soprattutto delle migliaia di prove di Torchio le prove di Torchio sono state tirate sulla base delle illustrazioni di Francesco Gonin non Gonin come dicono tutti esattamente e queste prove sono molteplici perché di ogni fascicolo i fascicoli erano di otto pagine ognuno era un foglio diviso in otto pagine uscivano poi dispense bisettimanali di due fogli quindi 16 pagine ecco questi fogli questi fogli sono in redazioni plurime perché le coppie tirate erano tante una andava al Manzoni una andava al correttore un'altra un altro correttore a un certo punto entra in gioco anche lo stampatore della ventisettana vera e propria entra anche lui in azione e il cantiere è grande a quanto pare il Torchio è stato a un certo punto spostato a casa Manzoni per facilitare il lavoro questa molteplicità di coppie che ha richiesto molto lavoro per anche definirne la cronologia è stata molto accuratamente studiata dal Ghisalberti Ghisalberti poi siccome memore del problema che aveva rilevato Barbie sapeva che c'erano delle incongruenze in alcuni punti incongruenze che ci tengo a dire sono solo in realtà fonetiche grafiche e riguardano la punteggiatura non ci sono mai in nessun caso lezioni sostanziali varianti di insomma legate a un termine a un qualunque elemento che non sia di questa natura a quel punto lui confronta non so, memore ripeto di quello che Barbie aveva ci teneva a fare confronta anche gli esemplari che erano stati poi riuniti perché le dispense escono singolarmente poi però con tutte le dispense rimaste Manzoni realizza un'edizione in volume nel 45 infatti qualcuno intanto dice dovremmo chiamarla 45ana nel 45 vengono riuniti i fogli in volumi che vengono rilegati e vengono anche tirati dei fogli in più perché alcuni capitoli il capitolo 21 ad esempio la notte del renominato era un capitolo che era andato evidentemente a ruba non c'erano più dispense sufficienti alcune erano mal conservate errori di stampa eccetera insomma è stata fatta anche una tiratura aggiuntiva di certi fasciccoli ecco lui ha confrontato tutti gli esemplari che ha potuto però il numero arriva a 108 la tiratura è di 10.000 coppie e ha messo a fuoco una serie di lezioni che divergono le ha sapute individuare e le ha discusse quindi diciamo Ghisalberti è arrivato a dare il testo ha dato il testo facendo un'attenta analisi un confronto preciso tra tutte le prove di Torchio insomma le bozze diciamo preparatorie con le illustrazioni Gonen e tra gli esemplari che ha potuto compulsare controllare non ha però lavorato sul io lo chiamo quasi manoscritto insomma sulla coppia della ventisettana densa fittissima di Correzioni Manzoni la vista l'ha studiata gli si è dedicato però non ha ricostruito nel dettaglio la genesi ecco quello che io volevo fare mi sono messa nell'ottica di farlo perché perché noi venivamo qui parlo al plurale da due lavori precedenti fermo e Lucia seconda minuta cioè gli sposi promessi il fermo e Lucia è nato da un cantiere è nato all'interno di un cantiere che il professor D'Antisella ha voluto nel 99 sostenuto dalla Casa del Manzoni edizione nazionale ed europea che avrebbe previsto fermo e Lucia ventisettana con apparato critico è quella che è uscita l'anno scorso per le cure di Donatella Martinelli in corso d'opera ci siamo resi conto che non era possibile dare in apparato alla ventisettana tutto il manoscritto della ventisettana la cosiddetta seconda minuta prima citata e allora abbiamo come dire da due testi ne abbiamo realizzati tre fermo e Lucia ventisettana agli estremi in mezzo alla cosiddetta seconda minuta un testo diverso sia dal primo che dal secondo con un apparato critico enorme perché lì i manoscritti sono una molte picciali spostamenti tantissimi le varianti tantissime io ve lo faccio solo vedere questo è il manoscritto del fermo e Lucia il curato di i primi otto capitoli hanno un titolo è quell'inizio quel ramo del lago di Como che inizialmente era quel ramo del lago di Como dopo diventa l'estremità a destra sull'estremità a destra dell'ario poi Cassalario rimette l'ario eccetera e dopo ritorna quel ramo del lago di Como con una serie di varianti genetiche questo è il manoscritto degli sposi promessi perché la ventisettana inizialmente si chiamava gli sposi promessi e sposi promessi è rimasta fino al venticinquesimo capitolo il ventisettana è diviso in tre tommi il primo arriva all'undicesimo compreso il secondo al ventiquattresimo il terzo comincia col venticinque reca il titolo i promessi sposi ma ancora nel ventiquattro è ancora il titolo gli sposi promessi quindi gli sposi promessi è il nome che abbiamo dato alla cosiddetta seconda minuta è il manoscritto della ventisettana e ha tutte le sue correzioni la sua genesi eccetera è qui quel ramo del lago di Como lo ritroviamo questa è una pagina ecco le pagine sono così della ventisettana di cui parlava il professor Beccaria le pagine sono questo è un foglio riutilizzato dal ferme Lucia lui lo prende lo rinumera questa è già la terza numerazione che vediamo perché qui c'è in un anteriore lui usa la colonna sempre di destra corregge sulla colonna di sinistra quando non ha spazio incolla i famosi cartigli che sono stati tutti rialzati con un lavoro anche molto impegnativo economicamente negli anni tanti anni fa quando il professor Rizella aveva inaugurato il cantiere quando lui utilizza i fogli questo è un foglio del ferme Lucia che reca come cartiglio un foglio molto successivo della seconda minuta lui sta lavorando sul foglio a seconda del ferme Lucia e lo sta riutilizzando nell'ambito della riscrittura è l'inizio del capitolo primo cioè quello che noi abbiamo visto là inizio del capitolo primo quel ramo del lago di Como ha un inizio ancora anteriore e chissà quanti ne abbiamo perduti di fogli con lezioni qui il ramo del lago di Como appena dopo è già variato molto ed è sempre con il titolo gli sposi promessi quello che segue è il cielo di Lombardia quando qualcuno mi dice quel cielo di Lombardia così bello quando è bello nasce così quando mi dicono ma Manzoni scrive e poi cassa e sostituisce e io dico sempre si scrive pagine e pagine le correggia all'interno in una maniera continua perché questo è tutto un'implicazione di testo inserimenti aggiunte sostituzioni correzioni in rigo in interline dappertutto a blocchetti che si richiamano non si richiamano vanno cioè si organizzano in maniera sempre diversa e poi alla fine magari cancella tutto con la sua tipica correzione cancellatura cassegno ricassatura ricciolo e rifà da capo il cielo di Lombardia che noi leggiamo come noi lo leggiamo nel ferme Lucia è in una maniera nei promessi sposi parlo di 27 anni in un'altra maniera ma in mezzo c'è tutto questo che non è né ferme Lucia né promessi sposi è sempre però il cielo di Lombardia nasce da lì a volte mi dico le varianti della seconda minuta forse contano ancora di più del testo perché è lì che è tutto rifatto 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 ed è lì che la sua strenua volontà io veramente a me sembra cioè nel senso lo sento parlare perché ogni volta una volta Giovanni Raboni aveva detto l'archeologo dunque no il filologo è l'archeologo dello spirito a me la mia sensazione è quella cioè riportiamo in vita una voce che altrimenti non esisterebbe più in nessuna maniera perché non è il fatto molti mi dicono ma adesso le mettiamo online facciamo tante cose mi dai le riproduzioni la riproduzione però c'è il lavoro di edizione dietro perché prima bisogna leggere tutto riconoscere capire le fasi perché un concetto fondamentale che anche in questa edizione di adesso che è la quarantana invece ho voluto ben definire è la fase non è solo il problema di leggere tutto e di dare magari le indicazioni questo è soprascritto questo è sottoscritto questo è aggiunto il problema è ricostruire tutta la la struttura di un periodo di un sintagma di una forma di un'espressione che è implicata per cui bisogna all'interno riconoscere le fasi in questo solo in questa pagina ci sono per il cielo di Lombardia almeno sette otto fasi diverse che noi di cui noi non sappiamo niente io perché ci ho tenuto a fare questa edizione perché faccio una premessa l'edizione che il professor Rizella aveva voluto era l'edizione dei manoscritti quindi lui voleva ferme Lucia e Ventisettana uscita adesso in mezzo abbiamo per forza dovuto far nascere in qualche maniera la cosiddetta seconda minuta agli sposi promessi ma lui non voleva arrivare alla quarantana perché diceva la quarantana esiste un'altra cosa un'altra situazione un'altra questione ma è una questione i miei apparati critici sono più lunghi di questi che già erano apparati notevoli ancora di più a mio parere ha lavorato ancora di più in questo nell'ultima revisione lui scrive edizione rivista dall'autore quando mi dicono cos'è la revisione sono le correzioni e ha rivisto ha rivisto ha rifatto di pianta tutto tutto quasi tutto allora torno indietro e dico tutte queste lezioni le avremmo perdute ha un senso darle e ha un senso perché ci permette di evitare io ho un grandissimo è servita tantissimo e serve tantissimo l'edizione raffrontata di Caretti edizione raffrontata tra prima tra ventisettana e quarantana che esce nel 71 presso in Audi è un'opera straordinaria fatta magnificamente però mette a confronto due edizioni critiche che non sono neanche manzoi film sono di Ghisalberti è il controllo è il confronto noi vediamo la lezione ultima della ventisettana la lezione ultima della quarantana ma in mezzo c'è un Manzoni che ha lavorato per vent'anni da Manzoni tra l'altro cioè mettendocela veramente tutta e mettendo in campo una strenua ma io dico non solo lotta ricerca una passione un'energia una volontà una fiducia che fondamentalmente è fiducia nell'uomo perché altrimenti non avrebbe fatto quello che ha fatto se non avesse sentito che aveva il dovere di dare agli uomini agli italiani una patria non toccava a lui ma una lingua toccava a lui e lui non si è sottratto il suo destino l'ha fatto anche con grandissimo a me viene anche a dire divertimento quando diceva la mia cantafavola la cura radicale eccetera eccetera cioè si vede che insomma ha dato un senso alla sua vita come in qualche modo seguendo nelle orme da me un'occasione unica di incontro questo è il cielo di Lombardia questa è la madre di Cecilia che abbiamo evocato prima la madre di Cecilia noi diciamo sempre non aveva nemmeno la pietà di un nome non aveva un nome né nel ferme Lucia e neanche nella seconda minuta gliel'ha aggiunto alla fine la madre di Cecilia il nome viene fuori a un certo punto e scendeva dalla soglia di un di quegli usci è un'aggiunta non c'era neanche nella seconda minuta quando diciamo la seconda minuta me la leggo sì ma devi leggerla nelle strati perché altrimenti tu pensi che Manzoni riprende in mano le carte e dice bene scendeva dalle soglie di uno di quegli usci assolutamente no per arrivare scendeva dalle soglie di un quegli usci ci ha messo tutto Manzoni insomma ecco e scendeva dalle soglie di uno di quegli usci e in un'aggiunta erano talmente complicati i fogli della seconda minuta che non ci si raccapezzava neanche più e allora è un continuo usare segni matita rossa matita colorata eccetera perché noi ci diciamo sempre il compositore non compositore un passo indietro il copista che ha messo in pulito la coppia della censura che ha studiato Donatella Martinelli doveva avere Manzoni al fianco perché raccapezzarsi qui in mezzo non deve essere stata una passeggiata comunque questa è la madre questo è invece la ventisettana allora dunque dicevo Isella aveva programmato di arrivare allo studio dei manuscritti per cui all'edizione della ventisettana io ci tenevo ad arrivare alla quarantana invece e mi sono attivata per farlo ho voluto raccogliere un po' il testimone di Ghisalberti perché Ghisalberti ha studiato in maniera mirabile gli esemplari puri spuri eccetera ha fatto tutta un'analisi dettagliatissima di tutto quello che è successo proprio nel momento in cui sono stati assemblati questi esemplari però mancava il lavoro vero e proprio portante diciamo mancava quella che io chiamo molti prima di me l'officina vera insomma l'officina dei promessi sposi la risciacquatura in Arno in via Campuccio dove è stata a chiarificare dove stava il Gaetano Cioni la risciacquatura è questa cosa qua allora bisognava farla ma non è stata una passeggiata neanche quella perché io non ho nessun ruolo da nessuna parte su una scuola allora ho cercato di attivarmi ma non è stato semplice e insomma alla fine una persona che neanche conoscevo che è un professore dell'università di Besançon che si chiama Angelo Colombo amico di un amico ha detto ma fai un dottorato da noi a Besançon e così riesci a staccarti quattro anni perché tu potrai lavorare perché invece per prima e seconda minuta abbiamo avuto un distacco dal ministero che ha permesso di lavorare ma dopo un distacco non c'è più stato perché non era prevista ripeto non peraltro e lui mi ha dato l'opportunità di questo dottorato il dottorato a Besançon ha riguardato l'interpretazione con i miei mezzi molto modesti perché assolutamente non sono cioè vi ascolto con una devozione con un senso di privilegio ma non sono assolutamente una storia con la lingua e quindi non so valutare però ho scritto quello che loro volevano tante pagine 500 pagine ma mi ha dato l'occasione l'attesi loro volevano l'attesi non l'edizione di fare l'edizione perché per fare un'attesi sul passaggio da prima e seconda minuta da 20 settana a quarantana come Colombo è riuscito ad ottenere dall'Universario di Besançon ho detto posso fare l'edizione prima lui mi ha detto ah sì e così è nata l'edizione adesso l'edizione è andata nelle mani come giusto che sia della Casa dei Mazzoni che è la sua sede naturale è in bozza i correttori sono bravissimi una si chiama Sara Rosini bravissima allieva del professor Gavazzini e l'altro si chiama Bruno Itri bravissimo editore della Salerno adesso antenore e mi stanno aiutando tantissimo con le bozze che sono una montagna allora questa è l'edizione su cui ha lavorato Manzoni è una coppia sfascicolata una coppia che lui aveva in mano probabilmente gli hanno dato un ultimo giro diciamo di erano ancora bozze sfascicolate un ultimo giro di bozze sfascicolate della 20 settana lui questo fascic forse uno forse due Donatella Martina li ipotizza che potessero essere due li ha tenuti sfascicolati ha corretto dovunque vi faccio dire anche l'altro così il suo lavoro è fatto in questa maniera allora lo specchio della pagina toglie aggiunge sostituisce quando cassa riga uno dice beh vedi la riga è la correzione sì no la correzione è fatta in questa maniera c'è la riga ma quella riga è costituita da tre correzioni diverse magari perché cacella una cosa e la sostituisce poi ne cancella un'altra perché è implicata per cui non è nemmeno che la correzione sia la lezione la correzione è la somma di varie lezioni e quindi bisogna capire dove si ferma dove ricomincia e soprattutto dov'è che cioè qui sono vissute in mezzo tante redazioni diverse come sempre tanti tentativi diversi uso lo specchio della pagina con grande precisione lui ha molto la logica del correttore utilizza sempre il margine che sta vicino alla parte dove lui correge fino a un certo punto da un certo punto in poi se ha utilizzato il margine quando deve aggiungere altro non ci sta più per cui cambia margine oppure va in mezzo più che può si restringe la grafia scrive in piccolo perché deve cercare di insinuarsi tra le parole che già ci sono oppure a un certo punto usa i margini superiori inferiori quello che può usando sempre dei segni di raccordo ogni variante è introdotta da una barra è costituita da una barra verticale che lui mette sulla acquietarlo vuol togliere acquietarlo diventa acquietarlo mette la barretta sulla E sul margine barretta IE variante sostitutiva è un insieme di barrette un insieme di barrette spesso superate per cui noi abbiamo una serie di lezioni che hanno il loro rimando all'interno ma che poi non sono irrelate perché in realtà superate da tutt'altro insomma ha lavorato più che ha potuto e l'impegno è stato quello di ricostruire anche in questo caso tutte le fasi secondo quello che voleva fare altro problema questa ventisettana la ventisettana lui ha lavorato su un esemplare sfascicolato a un certo punto l'ha fatto fascicolare cioè la dedica ve la faccio vedere l'ha dedicato a Pietro che è suo figlio fascicolandolo il margine interno è andato sotto la legatura per cui ci sono delle parole che semplicemente anche perché non è che volentieri mi farebbe aprire cioè nel senso alcune parole per carità si riescono a cogliere iniziamo a rivedere come cominciano eccetera però alcune sono rimaste all'interno effettivamente comunque lui ha lavorato fa delle correzioni di questo tipo interlinea allora uno dice questa virgola dov'è? è nell'interlinea e uno dice ma l'interlinea c'era? no, non è la virgola del testo è la virgola o l'apostrofo la virgola che lui mette nell'interlinea con tale precisione che sembra stampata perché un'altra cosa importante è questo abbiamo io ho usato la ventissetana ovviamente sua che è la sua che vuol dire una cosa importante noi abbiamo sotto gli occhi anche nell'apparato critico quello che Manzoni vedeva cioè questo è quello che ha visto Manzoni e non è una qualunque è la sua con errore di inchiostratura eccetera a volte ci sono delle correzioni che sono delle apostrofi ma perché? perché erano male inchiostrate per cui lui corregge non perché aggiunge otto ma perché l'inchiostratura non è corretta per cui anche quello induce a volte in errore e questa è la famosa coppia in cui la variante uno dei vari baratti lui mandava sempre rossare di corsa con l'acqua alla gola a cercare di corriggere qualcosa vai corri corri eccetera aveva corretto una forma e diceva dunque i navarrini così si chiamavano per ischerno i francesi dal nome di re Enrico IV principe di Navarra questa lezione che è qua dentro l'aveva cambiata nella 27 anni è tutta un'altra cosa molto più ampia anche molto più legata alla questione storica è tutta noi ragioniamo è molto più articolata ce l'ho qui dovrei leggere ma è più articolata e nella 27 in tutte le 27 anni c'è quella là tranne che nella sua perché era un foglio iniziale quando ha corretto la 27 anni non si ricordava che l'aveva cambiato mandando il rossare che oltretutto oltretutto Ferrari o Vincenzo Ferrari che poi è entrato a correggere anche le bozze di questa gli faceva pagare la correzione e lui la pagava in tasca sua allora gli dice vai fammi rimborsare non farmi sprecare il quattrino perché non me lo rimborserebbe nessuno in tutte le 27 anni c'è una lezione a cui lui aveva a cui era arrivato convintamente ma qui non c'è qui non se n'è accorto per cui la base era Navarri così chiamavano per istrazio i francesi diventa per ischerno stop fine della correzione istrazio in ischerno ma tutto il resto non c'è non c'era noi lavoriamo esattamente io ho lavorato esattamente sulla sua con una serie di refusi anche e con una serie di cambiamenti anche minimi di carattere allora corsivo tondo quando cita le grida lui quando finisce la citazione il corsivo il tondo dipende cioè se la grida ha quella virgola deve stare in corsivo ma se invece è del testo deve stare in tondo e ogni tanto aveva sbagliato qui corregge allora io nell'apparato mi ero fissata di cambiare tutte le virgole in tondo in corsi punti fermi anche allora lì però non mi sentivo di fare un apparato un po' pesantito ho chiesto consiglio a quello che è un po' il numero di chi fa questi lavori che è Gianni Antonini che è stato il grandissimo redattore della insomma di una serie di attività milanesi tra cui e che è stato collaboratore sempre collaboratore anche di Gianfranco e lui mi ha detto no assolutamente non mettere tondi e corsivi solo per una distinzione di questo tipo ma in una nota spiega bene che questo non lo sai la fondazione Mattioli ecco mi sfuggiva il nome sempre redattore lì mi ha ricevuto questa primavera a oltre 95 anni e mi ha fatto un'analisi molto precisa ma ho detto no non lo fare allora questa è la dedica che lui Manzoni ha fatto a suo figlio a Pietro che essendo mio figlio può avere cari anche i miei scarabocchi Alessandro Manzoni è la prima pagina dopo la fascicolata allora gli errori dunque io sono stata conservativa ovunque al limite del punto fermo in corsivo tondo ma non più di quello gli errori sono tanti qualcuno lui lo riesce a recuperare nella errata corrige che aggiunge l'ultima pagina della ventisettana e c'è altri non li ha visti non ha fatto in tempo qualcuno gli sfugge fino alla alla non alle bozze alle prove di torchio quelle con il gonen gli sfugono errori veri e propri vi faccio vedere un esempio una corta gonnella di filaticcia questo lo riconosce io ho usato sempre la didascalia sigma qui non l'ho messo perché il mio computer non mi fa il corpo ma il tipografo invece ce l'ha giusto metto una stampella prima di filaticcia io identifico la parola a cui si riferisce la didascalia la identifico con una stampella che va in apice una corta gonnella di filaticcia sigma filaticcio nel ratacorige qualcuno mi ha detto ma mettilo maiuscolo no Manzoni l'ha messo minuscolo e così resta degli uomini di una tembra più salda e di un coraggio più verde qui stava parlando di quelli che andavano all'osteria anche nel castello dell'innominato durante la discesa di Anzi Charecchi degli uomini di una tembra più salda degli nomini così era sigma uomini nelle ratacorige Don Fersante c'è anche lui sigma Ferrante queste sono tutte lezioni questo per dire Manzoni non l'ha messo nelle ratacorige se no avrei messo sigma fersante nelle ratacorige non c'è Manzoni riconosce quasi sempre gli errori o nelle ratacorige ripeto o corregendoli lui qualche volta gli sfuggono ma ci arriva poi i correttori se mai riconoscerli all'epoca delle prove di Torchio a volte sbaglia anche nel momento in cui è lui che lavora lo toglieva io di mia volontà questa è dunque 9 quindi è Lucia che sta parlando con la monaca di Monza lui scrive lo prendere sigma prendeva però lui scrive prendere e lì ci siamo detti avrà voluto fissare il verbo o si è sbagliato lui scrive lo prendere e lo prendeva lo leggiamo soltanto nelle prove di Torchio e io allora metto sempre sigma allora brevemente vi dico le sigle dunque io ho voluto fare un apparato che fosse leggibile anche da solo cioè anche senza testo nel senso il testo è sopra logicamente l'apparato è al piede però siccome io sto pensando anche a qualcosa che poi sia elettronico a qualcosa che sia interrogabile in un'altra maniera rispetto alla sola pubblicazione cartaccia mi sono detto con più l'apparato si legge ho cercato di puntare su sintagmi con un significato riconoscibile non volevo fare l'apparato perso da in sopra scritto app perché uno deve andare a vedere quale in ce ne sono magari tre in la stessa riga quindi ho voluto dare riconoscibilità e ho voluto usare meno sigle possibile e renderle parlantico allora V è l'esempio e così vi dico i testimoni ecco perché quello che io ho fatto è studiare tutto quello che ha portato dalla 27 alla 40 eccetto il controllo degli esemplari perché gli esemplari sono 10.000 per la 27 è stato fatto un lavoro Danila Harris dell'Università di Udine ed Emanuela Sartorelli una studiosa che ha lavorato anche sui carteggi di Manzoni loro hanno studiato 127 anni su mille su 10.000 come si fa cioè ne dobbiamo studiare che cosa a quel punto mille su 10.000 e poi con che sistema il grande lavoro di Facchi eccetera ha studiato i fogli come sono entrati nei torchi bisognerebbe forse mappare i fogli cioè forse una maniera ci potrebbe essere certo non ce la potevo fare io che ho fatto tutto il resto allora io ho voluto ricostruire l'officina di Manzoni proprio come la ora Manzoni diciamo partendo dalla 27 con tutti i suoi errori e le sue caratteristiche e arrivando agli ultimi testimoni documenti in nostro possesso cioè le prove di Torchio che sono 2.500 ma anche di più e anche le prove di Torchio dei ricomposti per quanto riguarda il confronto tra gli esemplari ripeto questioni grafiche fonetiche e punteggiature basta mi sono rifatta il Ghisalberti con un segno che poi vi dico cioè non sono entrata non mi sono presa responsabilità decidere io allora V è l'esemplare sfascicolato è la 27 WC è 27 corretta perché poi vedrete le sigle BZ bozze in colonna bozze in colonna ne abbiamo 11 in tutto capitolo qualcosa del 25 26 32 correttissime questo ci dice che sulle bozze le bozze non sono conservate nemmeno della 27 sulle bozze Manzoni deve aver fatto un lavoro enorme aveva un contratto con l'editore che gli permetteva grande libertà invece con le prove di Torchio il contratto non era così quando mi dicono perché poche correzioni anche perché non poteva tanto spaginare perché era un costo bisognava quando si correggeva cercare di tenere la linea invece qui aveva una grande libertà e l'ha usata la libertà quelle che abbiamo sono correttissime sicuramente erano tutte così ma poi si capisce dal confronto perché laddove non abbiamo le prove le bozze non le abbiamo le bozze in colonna che cosa superisce io non volevo dare apparati negativo cioè ricostruiti partendo no io volevo testimoni allora sono partita dal confronto tra l'ultima volontà attestata nella ventisettana corretta cioè l'ultima correzione depositata e la prova di torchio se la prova di torchio la prima di magari 7-8 se la prova di torchio ha una certa lezione già attesto quella lezione è entrata per forza nelle bozze in quante bozze? in una sicuro anche in 4-5-6 probabilmente perché sono stati più giri in ogni caso la prova di torchio mi attesta una differente volontà che è entrata magari qualche volta il dubbio che sia un refuso viene io ho il dubbio ad esempio a volte sono dei due punti che non sono molto comprensibili mi è finvenuto il dubbio questo l'ho già chiesto a tutti potrebbe essere che sia caduta per terra la lettera con il punto e virgola se si è rotta la gambetta della virgola e si è venuto fuori in due punti perché ci sono dei due punti che non hanno nessun senso comunque ci sono no io non mi permetto che non ha nessun senso ma magari scelti mazzone voglio dire però sono strani sono particolari allora bozze in colonna sono solo 11 bozze in colonna su cui Manzoni ha corretto e lì ha corretto tanto abbiamo una bozza impaginata questa è a casa del Manzoni non ha ancora l'illustrazione con il Gonel però impaginata e l'ho siglata BZ-IMP BZ-IMP perché naturalmente Manzoni ha corretto anche lì dopo abbiamo le famose prove di torchio che sono una marea allora prova di torchio prova di torchio gli ho messo una specie di ondulina sotto non conservata perché per quattro fogli i fogli dei promessi sposi sono 94 sul 94 inizia la storia colonna infame di questi 94 ne mancano 4 manca il 23 il 24 il 29 e l'89 per fortuna in quei quattro casi gli esemplari sono tutti concordi per cui vuol dire che non c'è stato nessun intervento all'interno di quei fogli i fogli sarebbero stati identici PTOC è il correttore il correttore che è un personaggio notevole anche lui il correttore corregge a volte anzi corregge sempre i vari correttori io li ho elencati sono un'unica sigla correttore c'è quello rosso c'è quello nero ma insomma sono vari e a un certo punto c'è anche il Vincenzo Ferrario il correttore segna la cosa Manzoni si approva la ricalca ricalca perfettamente difficilissimo da leggere perché a volte Ghisalberti infatti molte non le ha lette perché sono sovrapposti cioè se poi si va a vedere nel dettaglio l'originale naturalmente si capisce che sotto c'è un colore più il famoso rosso sbiadito ha ricalcato quando invece allora si ricalca io metto CM cioè correttore propone Manzoni ricalca CM Manzoni invece è correzione di Manzoni PTO M e PTO C è il correttore allora ci sono delle volte in cui il correttore sa cosa deve fare sa che deve chiudere le virgolette sa che deve mettere la maiuscola proprio punto fermo a volte invece sono sue iniziative Manzoni scrive vicino no oppure lui di solito mette vive per dire vive la sua ed entrano lo stesso le correzioni che Manzoni aveva rifiutato perché? perché magari Manzoni quella bozza non l'ha vista in qualche caso erano di fretta davano una coppia a Manzoni una coppia al correttore poi Manzoni non aveva finito dovevano tenere il tempo di 15 giorni usciva quella quella del correttore e accelero e ultime cose di questo ah quelle di ricomposti sono i fogli che hanno ricomposto in vista dell'edizione in unico volume nel 45 di nuovo PTO R prova di torchio ricomposto PTO R C correzione del correttore Manzoni non ha potuto far molto e PTO R M è prova di torchio cioè prova di torchio con correzioni autografi di Manzoni Q è la quarantana io metto sempre Q ma non è la quarantana che leggiamo quella che leggiamo che io ho dato come testo di riferimento è l'edizione nazionale ed europea con il commento di Maria Teresa Poggi Salani per me è quella è la quarantana cioè l'edizione nazionale di riferimento il testo insomma il testo è quello di edizione nazionale io intendo come quarantana dopo vedrete nelle varianti Q come quarantana intendo la somma di quello che è attestato cioè tutte le correzioni Manzoni tutti i ritorni cosa che Ghisalberti non ha potuto vedere nel senso Ghisalberti Caretti nel senso Manzoni a volte corregge 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 e poi recupera esattamente le lezioni di partenza magari sulle prove di Torchio oppure la 27 per cui noi nell'edizione interlineare abbiamo un'identità non sembra che ci sia neanche una correzione che non ci sia correzione e invece c'è una catena una campagna correttori e mezzo solo che non risulta per cui io ho dato allora tutte le intendo come quarantana tutte le correzioni tutti i ritorni che fanno sembrare che Manzoni si è intervenuto invece è intervenuto e come e la parte che non ha toccato fondamentalmente quella la quarantana cioè la quarantana con i testimoni queste sono le varianti allora le varianti sono a volte io le definisco secche cioè a volte immediate o in WC solo due cose allora quando sono immediate la costiera la riviera ti domanda ti dimanda freccina WC vuol dire in WC corregge e riviera diventa costiera quasi di passo più lentamente guarda con rancore guarda con rabbia monaca all'epoca della monacazione quel ramo di lago di Como che vuolge mezzogiorno qui è secca ma è secca in PTO invece la punteggiatura non c'era quel ramo che è virgola a Roder si è mastica ecco questo qui mi rifaccio al lampeggiare sinistro degli occhi questo l'inominato allora l'inominato un fuoco cupo che gli scintillava negli occhi diventa il lampeggiare sinistro con tutta un'altra voce ma queste sono immediate il bello è quando ci sono le varianti vere e proprie ne prendo una casa ed ecco apparire il cardinale poco dopo comparve il cardinale ed ecco il cardinale poco dopo comparve il cardinale quando ecco si vede spuntare il cardinale le leggi anzi venivano giù di rotta io nel primo caso non ho dato la sigla perché è V quindi inutile darlo è sempre la 27 le leggi anzi diluviavano le leggi anzi piovevano da ogni parte le leggi anzi diluviavano dopo la rivolta Don Abbondio dopo la rivolta volto il canto dopo la voltata vado a monaca mi fo monaca con la virgola fuori mi fo monaca con la virgola dentro perché è legata all'altra mi fo monaca di mio genio vado a monaca di mio genio mi fo monaca di mio genio virgola mi fo monaca virgola di mio genio si sentiva venire come si dice i bordoni rabbrividivi istantaneamente rabbrividiva subitamente si sentiva venire come si dice i bordoni che credo sia un toscanismo sul finire dell'estate sul finire dell'estate sul finire dell'estate Quando la variante minima con cui punteggiatura ho messo apparenzi, qui ce ne sono alcune bellissime, ma vi dico soltanto, questo per dire cassature interne, perché ho voluto indicare le fasi in sintagma, con i numeri 1, 2, 3 per dire fase, freccina derivativa per dire da qui passa qui passa qui, ABC per le cassature interne di ogni fase, in tondo e in corsivo se necessario, e qualche piccola diascalia e nient'altro, esempio, leggo questo e poi basta, ed entrambi si avviavano alla volta di lui, sono i bravi, ed entrambi si avviavano alla sua volta, ed entrambi si avviavano e diventa A, incontro, cassato, B, inverso, cassato, inverso, staccato, cassato, verso lui, 2, ed entrambi gli si avviavano in tronco e tutti e due gli si avviavano in tronco e li finisce, basta. Grazie, allora, io parlerò di un Manzoni senza personaggi, o forse con personaggi che entreranno in campo per altra via. Per lavorare sulla biblioteca di Manzoni oggi siamo relativamente attrezzati, dico soltanto che gli studi su Manzoni e i suoi interlocutori libreschi datano alla prima pubblicazione delle postille manzoniane ad opera di Eugero Bonghi a metà degli anni Ottanta dell'Ottocento, hanno poi ricevuto un nuovo impulso da quella grandissima opera che è stata la pubblicazione delle postille al vocabolario della Crusca di Dante Sella, all'inizio degli anni Sessanta e sono poi proseguiti con, credo, un culmine, quantomeno a livello di disponibilità di consultazione con il sito Manzoni Online, nato da due finanziamenti PRIN diretti da Giulia Raboni, dove, tra le altre cose, è disponibile un censimento dell'intera biblioteca manzoniana per la parte conservata alla braidense, riproduzione integrale degli originali e, in tutti i casi, trascrizione, inquadramento e commento delle postille. Ecco, rispetto a questa, diciamo, ormai tradizione di studi, io provo a fare una cosa in parte differente, cioè non parto dalle postille, ma parto invece da un testo manzoniano, provando a metterlo in dialogo con uno dei suoi interlocutori, anche grazie alle postille. Ecco, riconoscere un errore è acquistare una verità. Ora, io ho voluto mettere questa affermazione, tratta dai frammenti relativi al Sentir Messa, in epigrafia al mio intervento, che proprio del Sentir Messa si occupa, perché queste poche parole sono un manifesto del modo di lavorare di Manzoni. E, prima di tutto, va detto che, a riprova del suo effettivo statuto metodologico, il concetto viene doppiato in numerosi altri luoghi manzoniani. Io ne cito soltanto due, uno precedente e uno successivo al Cantiere del Sentir Messa. In una lettera del 15 ottobre del 1828 a Victor Cusen, Manzoni scrive, la leggo tradotta in italiano, che di fronte a un libro, cito, ho sempre avuto una disposizione a fare una scelta, a rifiutare qualcosa entro quello che approvavo, ad adottare qualcosa entro quello che rifiutavo. Mentre nel frammento da cui siamo partiti e che leggete nella slide lo scrittore si riferiva ai suoi propri errori, nella seconda citazione entra in scena l'attitudine a selezionare, a sezionare, a disaggregare il pensiero altrui, quindi a valutarne non solo l'insieme, ma i singoli passaggi, tratto fortemente identitario del Manzoni saggista. Come conferma, ad anni di distanza, l'ultima citazione. I grandi scrittori ci sono dati dalla provvidenza per aiutare i nostri intelletti, non per legarli, per insegnarci a ragionare meglio del solito, non per imporci il silenzio. Qui siamo nell'appendice al terzo capitolo del discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia. Come sappiamo, l'appendice al terzo capitolo è l'incremento più consistente che marca la seconda redazione, quella, la seconda stampa, quella del 1847. Quindi qui c'è il Manzoni storico che in qualche modo mette in atto una critica delle fonti. Allora, del Manzoni saggista io credo che possiamo dire quello che Contini diceva di Gadda, che la sua scrittura è tutta provocata. Cioè, il Manzoni che ragiona d'abitudine reagisce, pratica con sistematicità il dubbio sulle posizioni già acquisite. Come ritorna sul suo stesso passato, non lo cancella ma laboriosamente lo assesta o lo contesta. Così scrive, mosso dal bisogno di approfondire o di discutere convenzioni convenzioni e convinzioni sedimentate e risultati già acquisiti. Insomma, la spinta, l'accensione creativa, lo stimolo, sono sempre, per Manzoni, all'insegna della discontinuità. Sono una varietà di spride controversi. Mosso dal bisogno di scavare, di approfondire, di rettificare, Manzoni, ripeto, reagisce a quelle che gli pariano lacune o vizi nelle informazioni disponibili. Allora scrive. E' insomma all'interno di un vero e proprio campo di tensioni definito da forze oppositive che il Manzoni saggista colloca il proprio pensiero che si sviluppa appunto in buona parte per differenza e nella convinzione della fecondità di questa opposizione. Entro questo quadro introduttivo il rapporto con la biblioteca è essenziale all'intreccio di due processi. Lo sviluppo stesso del pensiero e l'organizzarsi del pensiero sulla pagina scritta che a sua volta determina a rebours nuove svolte perché la scrittura alimenta il pensiero e non soltanto viceversa. Questa è una delle grandi lezioni del Manzoni linguista. Allora mi concentro qui come anticipavo sulle riflessioni linguistiche e restringendo ancora il campo sul momento di elaborazione del testo incompiuto noto come il senti ammessa. non però gli spogli e i frammenti realizzati in collaborazione con Tommaso Grossi ma il lavoro invece avviato dal solo Manzoni tra le ultime settimane del 1835 e le prime settimane del 36. Le date si ricavano con relativa precisione attraverso una serie di indicazioni epistolari. Un campione circoscritto capace, mi auguro però, di illuminare esemplarmente i processi della costruzione argomentativa manzoniana. Allora, a questa altezza cronologica cioè fine 35, inizio 36 Manzoni non solo ha già messo in opera con la prima edizione del romanzo l'opzione linguistica toscana ma ha avviato il laboratorio teorico finalizzato a legittimarne la scelta. La prima e la seconda redazione del grande incompiuto saggio della lingua italiana datano infatti secondo la ricostruzione dei curatori rispettivamente al 1831 e al 34-35 quindi proprio a ridosso del senti ammessa. Come sappiamo il grande trattato della lingua italiana non si limita a enunciare una posizione ma la colloca entro una prospettiva linguistica generale e discute alcune delle teorie precedenti per rifiutarle. Nelle prime due redazioni Manzoni ha analizzato in modo particolare il sistema dei negazionisti il sistema di coloro che non ritengono rilevante il problema e il sistema di Antonio Cesari. Ecco, rispetto a questi grandi antecedenti cioè le prime due redazioni del saggio della lingua italiana il sentire messa che entra nella costellazione nel grappolo di scritti dedicati alla lingua gli scritti di Manzoni possono agevolmente raggrupparsi in costellazioni che si riprendono si rifanno si superano ecco entro il mega grappolo degli scritti sulla lingua il sentire messa rispetto alle stesure iniziali del trattato della lingua italiana che lo precedono presenta almeno due tratti di novità significativa. Il primo beh se della lingua italiana 1 e 2 sono il laborioso avvio di un percorso che già da subito si annuncia effuso molto ampio invece il sentire messa è un riassunto di quanto Manzoni ha raggiunto fino a quel momento la parola riassunto non è mia ma è della figlia Cristina che in una lettera del dicembre 35 all'amica Margherita Trotti scrive che papà sta facendo un résumé de toutes ses études sulla questione della lingua. Secondo aspetto il sentire messa testimonia di uno slittamento nell'uso delle fonti questo è uno slittamento davvero radicale perché Manzoni non parte più come aveva fatto nell'avvio della lingua italiana del trattato della lingua dagli errori degli altri per ricavarne la propria verità ma invece enuncia dapprima la propria posizione in forma positiva e solo in un secondo tempo fa entrare in campo gli interlocutori gli avversari quando Manzoni lavora il sentire messa dobbiamo immaginare collocati sul suo scrittorio i sette volumi della proposta di Monti il saggio sulla filosofia delle lingue di Cesarotti e forse un po' più spostato io lo immagino al bordo del tavolo la dissertazione di Cesari che era già stata ampiamente trattata nelle due stesure del trattato della lingua comunque tutti questi sono volumi e in porta di ergo già stampati da alcuni anni dei saggi di Cesarotti Manzoni possedeva l'edizione Silvestri del 1821 la proposta è uscita a Milano tra il 17 e il 26 quanto a Cesari che però sta un po' più sullo sfondo Manzoni lavora su edizione Silvestri delle prose uscita nel 30 con probabilità la scintilla che ha acceso l'idea del trattato allora questi libri Manzoni li ha certamente letti al momento della loro uscita e poi però li ha continuamente compulsati non li ha mai abbandonati e continuerà ad averci ripresente anche se dobbiamo dire un passant che in una fase successiva cioè nelle redazioni successive del trattato della lingua interlocutori principali diverterà interlocutore principale diventerà il pensiero grammaticale francese dai signori di Porto Arial fino ai grammatici illuministi ma questa è un'altra storia che in questo momento metto da parte allora fermato questo sfondo mi rivolgo entro la proposta di Monti ai due saggi di Giulio Perticari intitolati degli scrittori del Trecento e dei loro imitatori che sta nel primo volume primo tomo della proposta e dell'amor patrio di Dante e del suo libro intorno al volgare eloquio Apologia che sta nel secondo volume secondo tono questi lunghi saggi duecento pagine prima e quattrocento pagine il secondo hanno una caratteristica se rapportati a Manzoni di immediato rilievo cioè sono in assoluto i più ampiamente postillati marcati segnati dell'intera proposta un totale di una quarantina di postille parlate e molti e molti segni di lettura molte sottolineature molte manicule giusto per un confronto la lettera dedicatoria di Monti su cui Manzoni ha appuntato la sua attenzione ha in tutto nove postille per contro per Ticari viene citato nel sentire messa solo in una singola nota fa un'apparizione esplicita e molto molto limitate sono le sue comparse anche negli altri scritti linguistici ecco io credo che una lettura analitica parallela dei tre testi in gioco cioè i saggi di Perticari le postille di Manzoni a Perticari che sono a tutti gli effetti un testo e il sentire messa possa chiarire alcune dinamiche del come lavorava Manzoni cioè di come il pensiero linguistico di Manzoni prende forma e si assesta allora un primo livello del dialogo che Manzoni avvia con i testi fondanti di questa stagione discende da quella che vorrei chiamare una lettura di sistema la proposta di Monti con Perticari ma anche Cesarotti anche Cesari sono opere lo anticipavo lette nella loro integrità lungamente meditate analizzate in dettaglio e all'altezza del 35 e del 36 ormai assimilate e su queste letture si innesta a tutti gli effetti la scrittura del Manzoni linguista meglio queste letture innescano non l'idea linguistica di fondo che la lingua comune deve essere il toscano e poi il fiorentino presente quello non è provocato ma le forme scritte della sua difesa quelle sì invece allora in quest'ottica le tracce che si depositano sul sentir messa sono le più significative ma anche le meno immediatamente evidenti perché non sono oggetto di esplicita citazione siamo cioè di fronte a una forma di intertestualità muta o di appropriazione in absenzia utilizzo con piacere il termine appropriazione qui che rimanda a Bice Mortara Garavelli quindi questa intertestualità muta io la spiego col fatto che Manzoni all'avvio del trattato ha scelto lo anticipavo di non nominare gli autori con cui dialoga perché la nuova impostazione che il sentimento messa sperimenta è un'impostazione positiva il libro si offre come novità e solo in un secondo tempo come superamento e alternativa e un documento di questa forma di intertestualità muta lo si trova scorrendo la serie degli assiomi con cui il sentimento messa si apre che sono espressi appunto in forma positiva ma in realtà se andiamo a guardare sotto la pelle del testo sono delle risposte sono cioè il rovescio di altre voci le voci di quei testi che abbiamo immaginato aperti sul suo scrittorio voci ripeto non attribuite ma dobbiamo credere più facilmente riconoscibili ai lettori del tempo in base a quelli che Maria Corti definiva accordi di competenza tra emittente e destinatario che passano al di sopra della comune lettura in altre parole accordi che diventano espliciti grazie alla memoria intertestuale dei destinatari avvertiti dunque fin dalla pagina di apertura dicevo Manzoni introduce il comandamento positivo fondante l'uso è l'arbitro il signore delle lingue come tutti affermano anzi si può dire è le lingue stesse e va bene prosegue quindi a stabilire altri fondamenti che afferma e poi sviluppa e questi assiomi che si concentrano tutti nelle pagine iniziali sono l'uso è mutabile l'uso non è limitato ai libri l'uso deve essere uno prendiamo il primo assioma l'uso è mutabile ecco questa affermazione porta con sé un inciampo un problema perché perché la mutabilità scrive Manzoni è al tempo stesso vantaggio porta arricchimento alle lingue e svantaggio perché genera incertezza la quale incertezza va risolta dichiarata autologicamente la voce argomentante seguendo l'uso stesso cioè in caso di conflitto tra più dizioni bisogna scegliere la più usità usitata allora questa presa di posizione scioglie un nodo grave che di cui Manzoni era consapevole da anni e precisamente fin dalla prima redazione del saggio della lingua italiana cioè fin dal 1830 e se ne trova traccia proprio in un appunto che pertiene al cantiere della prima redazione e questo appunto lo vediamo qui i sistemi che ripongono la lingua negli scritti non danno il modo di verificare quale fra due parole sia quella dell'uso nelle lingue parlate quello che decide è il numero di quelli che ricevono una più che un'altra negli scritti non si può fermare il numero eccetera a questa altezza 1830 Manzoni si serve dei casi di uso confliggente come argomento contro chi identifica la lingua col patrimonio scritto cioè tutti i suoi interlocutori attenzione però a questa altezza il concetto di mutamento che abbiamo visto nel sentir messa non è ancora entrato in gioco se ci spostiamo invece al sentir messa Manzoni ha separato i due temi il mutamento e la lingua scritta e possiamo leggere le sue precise parole nella parte alta della slide quest'arbitro cioè l'uso però è mutabile qualità la quale è un vantaggio o un inconveniente ok vantaggio perché può ricare aumento inconveniente perché bla bla quello che avevo detto prima ebbene la soluzione del problema mutamento la soluzione è seguire tra due forme quella più vicina all'uso riflette in filigrana e cambiando la disegno non semplicemente la dottrina purista c'è anche quella ma più significativamente proprio quella di Giulio Perticari il quale partigiano di una lingua fondata sull'imitazione degli scrittori nei due saggi contenuti nella proposta addita con insistenza proprio la mobilità dell'uso come limite e ostacolo e il filo di queste affermazioni percorre in particolare il secondo saggio dell'amor patrio di Dante che è quello cronologicamente più vicino al sentir messa e qui vi ho messo nella parte bassa della slide tre estratti dal saggio di Giulio Perticari Dante dice che l'uso è mobile quindi non è possibile costruirci sopra delle regole stabili la grammatica non può essere variabili e poi la lingua non può essere sottoposta al mobile impero dell'uso ma invece da bembo in avanti va sottoposta alle ferme leggi dell'arte grammaticale allora anche se nessuna di queste affermazioni è ripeto citata esplicitamente nel sentir messa tutte propongono un nodo che Manzoni sa di dover sciogliere e aggiungo anche mi scuso perché nel mio ritaglio non si vede ma tutte queste affermazioni sono evidenziate a margine con dei segni a matita anzi si vede nella terza ma non nelle precedenti me ne sono accorta quando avevo già tagliato che è un taglio malfatto allora queste evidenziazioni non fanno dunque che confermare come Perticari sia l'interlocutore silenzioso meglio silenziato della pagina manzoniana e un'altra traccia è ancora più esplicita a un certo punto Perticari afferma che la grammatica non va formata sui perpetui mutamenti popolari ma sui libri dei grandi e poi parla di dizioni che aspettate un secondo di dizioni che vanno rifiutate perché mutabili eccoci qua lo vedete in alto rifiutate perché mutabili e non hanno altro fondamento che il ghiribizzo di quelli che tra loro ne fermano i significati ecco qua si inserisce la risposta di Manzoni con una postilla a matita che voi vedete sul margine destro e che poi io ho trascritto sul margine ancora più destro cioè Perticari ha sollevato il problema Manzoni risponde a questo inciampo e scrive nella postilla mutabili sono tutte le dizioni di tutte le lingue la ragione vera e unica di rigettare queste è l'essercene altre che significano il medesimo e l'essere quest'altre più innanzi nell'uso più innanzi nell'uso questa è la risposta siamo nel grande tema dei sinonimi sull'asse diacronico allora si sceglie quella che sta prendendo più piede che è più innanzi nell'uso ebbene questa postilla qui che è la risposta al problema sollevato da Perticari atterra direttamente sulla pagina del sentir messa nel passo che io ho trascritto nella parte bassa della mia slide e si propone quindi come soluzione al problema del conflitto tra gli usi i mutamenti non si fanno così di punto in bianco corre un tempo nel quale due voci e due locuzioni vivono insieme e come conviene guidarsi in questi casi conviene adoperare l'addizione più usitata che ha per così dire meno strada a fare per essere l'addizione unica quindi nella postilla diceva più innanzi nell'uso qui dice che ha da fare meno strada esattamente lo stesso concetto abbiamo a questo punto isolato due procedimenti entrambi identificativi del modo di lavorare di Manzoni prima di tutto Perticari fornisce un trampolino di lancio cioè contribuisce all'allestimento della travatura concettuale manzoniana come attivatore dell'argomentazione la sua voce è silenziata però è operante l'operazione di azzeramento del suono è funzionale alla nuova strategia argomentativa del sentire messa le voci altrui vedono assottigliarsi la loro presenza o sono convocate come pezze d'appoggio positive cioè la pluralità di voci si va insomma organizzando secondo uno sbilanciamento in favore della voce argomentante dico si va organizzando perché questa forma troverà ulteriori perfezionamenti nelle successive stesure del trattato della lingua italiana in secondo luogo abbiamo visto un caso dove la postillatura parlata non è funzionale all'estrazione cioè non segnala un passo di perticari che verrà citato ma costituisce essa stessa l'oggetto di estrazione quindi la postilla è cellula germinale di uno snodo argomentativo quindi il rapporto intertestuale passa attraverso due fasi la lettura stimola una reazione questa reazione si trasferisce sviluppandosi e di nuovo silenziando l'occasione fonte perché per Ticari non è citato neanche in questo caso nella scrittura del sentir messa un un secondo livello di dialogo con le fonti è invece più facile a individuarsi ed è quello in cui il sistema dei segni di lettura prepara l'estrazione da perticari in questi casi l'interlocutore sarà citato esplicitamente la postilla però non si limita nel caso di Manzoni a evidenziare i passi che saranno ripresi prepara piuttosto con i due strumenti primari della segnalazione di contraddizioni e della domanda retorica i contro argomenti che verranno utilizzati nel trattato e questo accade mi fermo ancora su per Ticari quando Manzoni stabilisce che i dialetti possiedono le caratteristiche proprie delle lingue quindi un uso certo e continuamente attivo anche se a differenza di una lingua sono impiegati in ambiti ristretti ebbene qui nel sentir messa si inserisce una lunga nota l'unico caso in cui per Ticari è citato esplicitamente una lunga nota che mostra come per Ticari negando questo dato sia caduto in contraddizione affermando da prima che i dialetti sono soggetti ai perpetui mutamenti popolari e dopo che i dialetti hanno regole costanti ecco qua le due pagine incriminate le lunghe citazioni dal testo di Perticari sono recuperate da Manzoni in base al sistema segnaletico allestito in precedenza sulle pagine del testo in particolare che cosa fa Manzoni a pagina 11 inserisce a sinistra inserisce un rimando a pagina 28 e a pagina 28 inserisce un rimando a pagina 11 scrivendo vedi grammatica e tutto quel che precede nella nota che vedete trascritta molto scorciata perché lunga nella slide in basso Manzoni sostanzialmente che cosa dice mostra che per Ticari prima dice una cosa e poi dice un'altra quindi i segnali verbali e non verbali hanno agito sia nel caso che abbiamo visto all'inizio sia in questo caso come un memorandum predisposto sul volume per degli usi futuri però il loro impiego è stato diverso abbiamo visto una confutazione ad ampio raggio quella che ho chiamato confutazione di sistema e una postilla come c'è una postilla manzoniana come cellula germinativa dell'argomentazione e in questi casi per Ticari non veniva nominato e poi invece secondo livello di dialogo quella che vorrei chiamare confutazione di dettaglio con esplicita menzione del passo e la tipica tendenza manzoniana a individuare le fallace logiche nel caso specifico la contraddizione di per Ticari aggiungo che il primo tipo presentava segnali verbali e non verbali a matita fatti con la stessa matita quindi sia l'evidenziazione a margine sia la postilla erano scritte a matita mentre invece il secondo tipo che avete davanti qui utilizza una penna la differenza dei mezzi di scrittura indirizza quindi a postulare tempi diversi di ricorso al testo a questo punto mi pare che emerga con chiarezza come le pagine dei libri con postillature e segni di lettura sono per Manzoni una sala macchine dove la certi citazionali scrittura impropria entro la quale si riconosce il germe di futuri sviluppi rimandi incrociati segnalazione di fallace logiche altrui sono destinati a evolversi attraverso il riuso nella dimostrazione manzoniana siamo dunque nell'ambito di quella che vorrei chiamare non postillatura di genesi le postille di genesi sono una categoria molto utilizzata da chi si è occupato di postille penso per esempio agli studi su Alfieri di Cristian del Vento ecco piuttosto che di postillatura di genesi io parlerei qui di lettura di genesi l'intertestualità manzoniana cioè non passa solo attraverso recitazioni esplicite è l'atto stesso della lettura che si trasforma in una stazione del riflettere e quindi in una tappa del complesso percorso per approntare un testo funzionale allo scopo di convincere chi legge e proprio questo legame tra lettura postillatura e scrittura aiuta a spiegare un piccolo mistero della biblioteca manzoniana un piccolo mistero che tutti quelli che hanno lavorato sulla biblioteca di Manzoni conoscono cioè quello delle postille cancellate che un po' in tutti i libri sono molto numerose e questo delle postille cancellate è il terzo e ultimo modo di leggere di cui mi occupo allora Manzoni ha cancellato abbastanza spesso alcune delle sue postille usando metodi diversi più o meno radicali dal taglio dei margini del foglio che poi ricostruiva con carta bianca agli interventi di lavatura per cui ci troviamo un testo di lavato non più leggibile oppure di sovrascrittura con i tipici Ghirigori o Ricciolini ora per il caso delle postille tagliate naturalmente non c'è nulla da fare però nel caso di postille dilavate o cancellate con sovrascrittura grazie ai recentissimi studi ancora in corso in verità del laboratorio Arvedi di diagnostica non invasiva dell'università di Pavia nell'ambito di un progetto di ricerca che coinvolge linguisti e filologi manzonisti e un team di chimici dei beni culturali che afferiscono appunto al dipartimento di musicologia e beni culturali dell'università di Pavia nell'ambito di questo ampio progetto è stato possibile sottoponendo le postille cancellate a sorgenti luminose avviare una possibile ricostruzione e si stanno ottenendo dei risultati quindi quello che vi mostro io adesso è proprio come dire un primissimo un primissimo vagito di questo di questo futuro abbastanza ampio cioè stiamo cominciando a riuscire a leggere qualche postilla cancellata quelle che quando io ho lavorato a lungo quattro anni fa sulle postille di Manzoni davo per perse quindi il futuro in qualche modo incalza naturalmente decifrare delle postille prima inaccessibili non è in sé un risultato cioè è un risultato per i nostri amici chimici non per noi porta con sé invece per noi sollecita delle domande e in primis perché Manzoni ha cancellato proprio quella postilla e prendo quindi qui una singola postilla dove credo di avere ricostruito le ragioni della cancellatura anche perché di queste ragioni riconosco la solidarietà con l'immagine dello scrittore al lavoro che ho disegnato fin qui allora nel capitolo ottavo del suo trattato Perticari sostiene che Dante ha fondato il volgare illustre prelevando le parole migliori di tutti i dialetti italiani i dialetti italiani erano molto numerosi era dunque mestieri scrive Perticali non l'una scegliere ancorché la migliore ma solo il fiore da ognuna cogliere quindi da ognuna delle lingue o dei dialetti italiani bisognava cogliere il meglio non prenderne uno solo e rimanente alla plebe lasciare e così stabilire una lingua comune a tutti e questa è la sua idea di lingua e più oltre Perticali specifica che anche il dialetto fiorentino contiene delle voci rusticane e plebe quindi delle voci da rifiutare e prosegue e queste e queste parti cioè le voci rusticane del dialetto fiorentino Dante non volle e se molto e i pure tolse dai toscani il fece perché molto in quei dialetti era dell'illustre ecco qua si colloca una postilla cancellata come vedete nel foglio a destra a sinistra che è il foglio della proposta di Monti e del saggio di Perticali Manzoni ha sottolineato ha fatto una postilla e poi l'ha cancellata e l'ha resa illegibile a destra vedete la stessa postilla trattata consorgente all'infrarosso e in luce visibile che con un po' di fatica non è proprio così immediato ma con un po' di fatica si riesce a decifrare e allora questa postilla prima illegibile dice ma se era cotesto in lustre perché non le tolse adesso addirittura cioè se il toscano era il lustre dice Manzoni allora poteva prendere tutto da lì perché Manzoni ha cancellato questa nota ma io credo che lo abbia fatto quando rileggendo si è reso conto che quanto aveva scritto era frutto di un calo di attenzione perché? perché a questa domanda Perticali aveva risposto nei paragrafi precedenti quelli che vi ho letto in parte riassumendo adesso non l'una scegliere ancorché la migliore ma solo il fiore da ognuna cogliere la postilla insomma viene espunta viene cancellata perché è inutilizzabile a fini argomentativi Manzoni può non essere d'accordo e d'accordo non è con la tesi di Perticari però questa postilla qui evidenziava una forma di incoerenza che invece a una lettura più attenta si rivela incoerenza non essere e quindi non si prestava la postilla a quella mappa del riuso che l'insieme dei segni di lettura sui libri definisce grazie 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 grazie